Quindi mi raccomando, completo tutte le sfide, tutti i livelli del pass battaglia, tutto quello che vuoi E ti farai praticamente la prima ricompensa più la seconda mezzo milione di punti esperienza Io non ho veramente parole, sono tantissime, arriverai a livello 1000 praticamente, è una roba assurda Prima di cominciare con il video ci tenevo a salutare i miei nuovi amichetti che si sono abbonati al canale Ossia Paolo e Ferrezeta, grazie mille Paolo, il signor Filippo, Lollo73, Cuccioli05432, Transporting-Baisamu I notturni, Kazuyarox per aver sparato Viola, Damiano Boss e proseguiamo ancora con Lorenzo, YY0, Filippo-Racuia, Ludo-Itz, MatteoPro2007 E basta così, sono già tantissimi, mi raccomando premi anche tu il tasto abbonati Scegli il livello di abbonamento, che più fa per te, avrai la mia richiesta, verrai salutato nel prossimo video Ed avrai tantissimi vantaggi, è divertentissimo Abbonati ora, io ti aspetto in famiglia, ed è proprio lo stesso gesto di Naruto Finalmente in questo video ti mostrerò le nuove ricompense gratuite da ottenere prima di Fortnite capitolo 3 stagione 1 Quindi ti devi proprio sbrigare prima di cominciare Però io ti invito ad iscriverti al canale Attivando la campanella delle notifiche Per non perderti nessun video e nessuna mia live Tutti i giorni alle ore 18 Quindi mi raccomando premi subito il tasto rosso Iscriviti perché tantissimi di voi che guardano i video Poi non sono iscritti Ed adesso negozi oggetti Tasto supporto a un creator In basso a destra Preparati subito a questa nuovissima stagione Inserendo nello shop Oh beh, l'unico, solo e delimitabile Codice creatore Gio trattino X97 Tutto maiuscolo Proprio come puoi vedere Qui dietro di me Ed ancora qui sotto di me Anzi, io ora lo vado a riaggiornare immediatamente Gio trattino alto X97 E sono pronto per questo nuovo capitolo di Fortnite Wow! Finalmente ci siamo Guardate addirittura dietro di me Abbiamo tutte le nuove immagini Dell'evento finale Quindi Fortnite The End Che però poi vi mostrerò in altri video Perché ho veramente tantissime Ma dico tantissime Ho già detto tantissime Come? Ah sì, l'ho già detto Ok Comunque ho tante novità da dirvi Guardate intanto qui il buco nero Io spero veramente che non ci sia il buco nero Solo mi arrabbio tantissimo Detto questo Iniziamo subito con la prima ricompensa da ottenere Prima di questo fantastico capitolo 3 Beh, penso che già sarà fantastico Però non me lo chiedete Io mi auguro di sì Beh, per la prima ricompensa è semplicissimo Questo è ottenibile da chiunque Sia se avete Xbox Sia PlayStation Andate immediatamente nel PlayStation Store E scrivete Fortnite Pick AX Scritto P-I-C-K-A-X È tutto unito E vi darà direttamente due oggetti Quindi non uno È una ricompensa che ve ne dà due Quindi due picconi gratuiti Da sbloccare immediatamente Intanto qui vediamo Fortnite Season 8 Play Now Gioca adesso Sì, la giocheremo tra pochissimo Non vi preoccupate Detto questo Passiamo subito ad un'altra meravigliosa ricompensa Infatti dovete andare Nella sezione del menu principale Qui intanto come vedete Vi spuntano varie schermate Tra cui il trailer è Chapter 2 Season 8 A Day Hill Un 4 Dicembre Quindi praticamente Vi darà 225.000 punti esperienza Io non sto scherzando Used to increase the Battle Royale Season Level Per chi arriva al livello 100 Di questo pass battaglia E quando entri nel menu principale Ti spunta Fissa data Perché ti dirà Ci sarà l'evento finale Che vuoi fare Guarda trailer O fissa data Beh, se tu sei a livello 100 E clicchi fissa data Ti darà 225.000 punti esperienza Sì, so che secondo te sono tantissimi Ed effettivamente è proprio così Però È bellissimo Come vedete Season 8 Capitolo 2 L'evento sarà il 4 Dicembre In Italia Alle ore 22 Perché tutti mi avete letto Gio Ma che ora sarà Alle 22 Lo ha detto proprio L'epic Nella schermata iniziale Detto questo Passiamo subito Alla prossima ricompensa Che è ancora Molto molto più bella Infatti Free Rewards Numero 2 Vediamo un po' Cosa ci dice il budino Vediamo E io non sto più nella pelle Ok Qui quando ha registrato Questa schermata Effettivamente mancavano 10 giorni Però adesso ne mancano 6 Cavolo O dipende Quando state vedendo questo video Comunque Qui vedo Dei V-Bucks Questo cosa significa Che qui Lui possiede la Galaxy D'accordo Quindi Honed Posseduta Ah ok Abbiamo il Backpack Con 0 V-Bucks Ho capito Quindi sostanzialmente Se voi Andate nel Playstation Store E scrivete Fortnite Backpack Vi darà Uno zenetto Da ottenere Gratuitamente Quindi beh Io ora ci vado subito Però specifico Che è per i budini Che hanno Playstation 4 E Playstation 5 Quindi beh Se non ce ne hai Compratele O veramente Solo per uno zenetto Non ne vale la pena Resta con la tua Console preferita E attenzione Altra ricompensa 0 V-Bucks Unicorn Zone Parade La parata Dei unicorni Siamo un unicorno Fantastico Ok Beh quindi Io già l'ho riscattato Questo ve lo posso dire E dai E basta Incanto Ma che cavolo Me ne prega Qui sta uscendo Il capitolo 8 Sì magari Il capitolo 3 Penso al vostro evento Quindi Se vi piacciono Gli unicorni Ma anche se non vi piacciono Gli unicorni Riscattati questo Bigliettino da visita Con 0 V-Bucks Avete visto Il budino Che lo riscattava in diretta Io l'ho già fatto Ma Adesso Se volete Continuare a sapere Altre ricompense Io vi do 3 secondi di tempo Per lasciare un bel mi piace Anzi no Facciamo una cosa Mi sono stufato Mi sono rotto le scatole Non ti do neanche un secondo Lascio un mi piace adesso Mi raccomando Perché è veramente Importantissimo Adesso Adesso Fai diventare blu Il tasto dei like Spaccalo Distruggilo Detonalo E vediamo di arrivare A 200 Mi piace Se vuoi un altro video Di altre ricompense gratuite Con skin V-Bucks Prima della stagione 1 Capitolo 3 Ti basta solo lasciare Un mi piace adesso Uh Adesso qui Cosa sta avvenendo Rock No way Octane Womper P-Cakes Quindi Abbiamo un backpack Di Rocket League Quindi con la macchinina LRL GG Spray Che si possono ottenere Gratuitamente Semplicemente Andando Nelle quest di oggi Ossia del giorno stesso In cui sto pubblicando il video Quindi Mi raccomando Se ancora non l'avete fatto Andate nelle sfide Completandole Ecco Qui vedete Lui che la completa New remote Quest complete Ed ottieni Questi oggetti Di Rocket League Che beh Sono bellissimi Rocket League E uno dei miei giochi preferiti Con le macchinine Brum Brum Ed infine Abbiamo Altri 225 Mila punti Esperienza Perché riesci a completare Tutte le sfide Prima del 4 dicembre Quindi naturalmente Quello che vi sto dicendo adesso Scade il 3 dicembre Alle 23 e 59 Quindi mi raccomando Completo tutte le sfide Tutti i livelli del pass battaglia Tutto quello che vuoi E ti farai Praticamente La prima ricompensa Più la seconda Mezzo milione Di punti Esperienza Io non ho veramente parole Sono tantissime E arriverai A livello 1000 Praticamente Una roba assurda Qui addirittura Vediamo un po' To immortalize the end Players Ok The end Will unlock A special Uh attenzione Quindi abbiamo Una ricompensa gratuita Che sbloccheremo Il 4 dicembre Infatti Per Immortalare Non lo so che cavole L'evento di end I giocatori Uh attenzione Who fight back The cube queen By attending The end Sbloccheranno Will unlock A special Loading screen And wrap Quindi un loading screen Wrap che non so cosa sia Wrap era la piadina Del mcdonald E fino a un secondo fa Per me però Un loading screen Dovrebbe essere una mimetica Non lo so Lui ha fatto vedere L'immagine di una mimetica Ma fatto sta Che per l'evento Ci daranno qualcosa Di gratis Mi raccomando Lascia un bel mi piace E condividi il video Con tutti i tuoi amichetti Budinosi Se vuoi altri video Di ricompense E di news Prima del capitolo 3 Iscriviti al canale E ti ricordo Che mi trovi in live Ogni giorno Alle ore 14 Su Twitch Per giocare insieme E alle 18 Su Youtube Alle 14 Twitch Alle 18 Youtube Alle 14 Twitch Alle 18 Youtube Non mancare Ciao ciao